Oh, Erobrine, come sei sensuale oggi! Mh, con quelle bababuri! Che cavolo dici, oh? Ma sei impazzito? Erobrine! Lo sapete che a me è Erobrine? No, no, no! No, no, spegniti! Questa è giustizia divina! È l'acqua da qualche parte! Cioè, ti sembra il caso di fraternizzare col nemico? Vabbè, mi sono fatto un attimo prendere, no? No, no! Quando me si è offeso, Erobrine! Secondo me gli piaceva tantissimo, però purtroppo io non ho deciso di andare più in un po'. Ma che avrà con lui, capito? Esatto, mi ha attirato! Cioè, guarda, pure se i lupi ti guardano storto! Pure loro, guarda! È vero, è vero, è vero, è vero! Ma dovrebbero farsi gli affari loro, perché forse sono gelosi! In ogni caso, come potreste aver capito, oggi apriamo i Slucky Block di Erobrine! Vediamo cosa c'è dentro! Sicuramente cose bruttine! Sicuramente c'è la morte! C'è la morte! Io ti ricordo, Alex, come è andata a finire l'ultima volta! Cioè, che noi abbiamo vinto, però loro... Questo è il passato, questo è il passato, questo è il passato! Però, però, dovete promettere che non verrete a tradimento, tipo, dopo quattro minuti ad ammazzarci! Allora, guarda, non te lo posso promettere, però ti posso soffrire e poi farlo anche tu! Al massimo vi concediamo, tipo, di richiedere una uccisione! No, 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 no! Se non dovete essere gelosi, se siamo più bravi, a non morire! Va bene, vedremo, vedremo quello che succederà, vero? Fate quello che volete, però vale tutto, è una guerra, quindi... Vì, andatevene! Allora, se dici così, noi vi sbucchiamo da sotto il babamburi e vi... Fate quello che volete, però adesso andatemene, forza, via, via! Allora, oggi non è che ci va tanto... Sei laggiù, piccola, piccola, guarda come corre! Guarda come corre, guarda! C'è Rubra indietro, corri! Ma come? Non sto scherzando, sta laggiù, sta laggiù che ci guarda male, che in realtà... Guarda, guarda lo spazio dove eri tu prima! Magari preferiva che tu stessi lì, ma non ce ne frega niente! Ma, chi sa come mai! Guarda, non ce ne frega niente perché quei due manigoldi stanno laggiù e quindi noi stiamo qui! Oggi abbiamo a che fare con questi! Con questi occhi bianchi, questa faccia arrabbiata... In realtà non è arrabbiata, però vabbè, insomma, è terrificante! Io mi auguro che vada un po' meglio di come è andata con l'intruso, perché se all'inizio eravamo partite bene, che non morivamo mai, poi è successa necatombe! Io sono morta tipo quattro volte di fila per esplosioni che non so neanche da dove uscivano! E infatti! Quindi mi auguro che la cosa vada meglio! Allora, io direi... Ecco! Di metterti tu là, proprio di fronte a me, io qua, e apriamo un paio di blocchetti! Uno, due... Intanto l'Ion sta laggiù! Per vedere cosa succede! Pronta? Sì! E già loro sono morti una volta, eh! Quindi, quindi occhio! Vai! Oh oh! Oh oh! E già inizia bene! Oh oh! Lanciamo questa moneta... Aspetta! Vai verso il ponte! Vai verso il ponte! Dai retta, vai verso il ponte! Ok! Tiro, eh! No! C'è un cane arrabbiato! Ok! Oh oh! Quanto un po'? Quanto un po'? Oh! Stavolta ci deve andare bene per forza, eh! Mamma mia! Allora, io direi che possiamo iniziare a fare così, allora, tu... Allora, io li sento urlare come non ci fossero domani, e queste urla sono musica per le mie orecchie, sono musica, che cosa bella! Allora, direi che intanto tu ti puoi inabissare nel pozzo, basta che togli il beacon e prendi tutti i blocchi di ferro, perché quelle sono già belle pepunianze, mentre io mi azzarderei ad aprire un bel pacchettino, tipo questo qua, vai! Allora, è caduto un fulmine ed è uscito un bob! Bob? Ma, aia! Ma che cosa... Ok, Feri? Anna? Che è successo? Ho scavato un blocchetto di ferro ed è esploso! Allora, mi è successa anche a me l'altra volta sta cosa... Cos'era? Ho trovato dei gatti? Mi è successa l'altra volta la stessa cosa con i lucky block dell'intruso! Quindi io non lo so, comunque ho preso l'altro ferro, mi è uscita anche la lucky sword, che è molto buona! Il ferro te lo do te così poi lo sciogli e me lo ridai! Ok! Intanto io qui sono armata e vediamo un po' di aprire, tipo questo! Oho! Feri, guarda un po'! Wow! Mamma mia! Allora, innanzitutto prendiamo questi qua d'oro! Eh, ti apro una porticina, perché qua dentro ci sono dei lucky block! Sì! Che andrebbero un po'... Allora, tipo io apro questi due di qua e tu... Oh! Allora! Porco! Vai via, porco! E se ne va! Oh! Oh! No! Feri! Feri! Ma cosa... Allora... Potrebbe essere, potrebbe, potrebbe essere che la mia spada abbia lanciato dei fulmini! Ok! E così facendo ha trasformato tutti qui! E lui trova cose! Via, 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 via! Mamma mia! Via! Oh! Feri! Ok, 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 siamo vive, siamo vive! Ok, perfetto! Allora, dunque, apriamo questi blocchi! Tipo io apro questi di qua, tu quelli di là e vai! Ok! Pozioni? Un villager? Un arco! Questo hero villager cosa dà? Niente, è inutile! Non me ne frega! Vai via, via! Non mi interessi! Ok, allora, dunque, facciamo un recap! Io qui c'ho 48 blocchi lingotti d'oro, 16 diamanti e 17 esmeraldi! Tu dovresti avere tutto il ferro, giusto? Io ti do tutto quello che ho, di più, di più! Brava, buttami tutto! E il ferro! Allora, mamma mia! Qua c'ho delle pozioni, intanto, che sono molto... Oh! Mi piace! Ho delle pozioni molto gustose! Direi di aprire un'altra cosa! Pronta? Ok! Allora, sceglitene uno, io mi scelgo questo! Vai! Io mi allontano! Aspetta, io ho questo! Oh, mamma mia! Scusate, scusate! Allora, guardate le morti! Guarda, cosa vuoi? Che ti è successo? Le morti! Non è giusta questa cosa! Io ti devo prendere a picconate adesso! Bene! Anche tu! No! Cosa? Ma quel piccone è qui! Premo, questo piccone è buonissimo! Scusami! L'ho dovuto fare... Allora, voi non avete idea di cosa ci è successo prima! Allora, io tipo avevo la Lucky Sword, mi è uscita la pila... Oh! Non aprite i nostri, eh! È uscita la pila di ma... Ehi! No! Ecco, vedi? Guarda, guarda, ti faccio vedere! Sei pronto? Aspetta! Aspetta! Non vedo niente! Anna! Sali, dai! Sali! No, no, no! No, no, no! Sto morendo di nuovo, Anna! Ti voglio far vedere le cose! Aspetta! Aiuto! C'è Bobo, ammazzate! Non fate qualcosa! E mori, porca miseria! È nel buco! È nel buco! Lascialo lì! Cosa mi devi far vedere? Allora... Prima era uscita questa torre qua! Io ho iniziato a spadarla con la mia spada! Tipo è partito un fulmine! E sono diventati tutti pigmen e ci hanno ammazzato due volte! O eri stato tu? Noi siamo esplosi tipo dodici volte, eh! Ma che va è successo? Non la vai! Basta! No, ho sbagliato! Dai, vai, vai, vai! Davanti! Ho sbagliato! Ho sbagliato! Basta! Perché questo piccone è forte! Quando ci do una piccona da peri muoce! Poi ho trovato questa! Cos'è? Non lo so! Me la dai a me? No, è tua! Sembra una pizza! La proviamo? Perché ti fidi a darla a lui? Ok, prova! Da lì! Eh, ma io non ho l'accendino! Dobbiamo trovare l'accendino! Eh, non ce l'ho manco io l'accendino! Però io ho una cosa epica! Cioè? Che ho trovato di avere... Eh, la pozione di Aerobrine! Questa qua è suprema! Vedrete, vedrete! Figata, no! Non ce l'ho io! Che cosa fa? Ci stuzza! Adesso andiamocene! Andiamo ridendo via! Bene, andate con noi! Andiate! Ciao, ciao, ciao! Ciao, 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 ciao! Se ne sono andati? Se ne sono andati! Ok, allora, Ferry! Ferry! Ho trovato la Hero Sword! Che è tipo super mega ultra iper mamma mia! Qua c'è una cassa che non si apre! Gatto, vai via! Gatto, gatto! Seguono tutti! Gatto! Ok, non c'era niente di utile! Porca miseria! Questo Bob, vabbè! Poi c'era un'altra cassa da qualche altra parte che io non ho aperto! Io non ne ho visto! Ho visto solo quella prima che arrivassero loro! L'hanno peresa loro! Vabbè, allora aspetta! Ammazziamo Bob! Mamma mia! Oh, ha dato una spada! Aspetta! No, è una spada normale! Purtroppo è una spada normale! Mi pensavo e speravo che fosse... Uh! Che fosse una spada utile, ma invece lo fa schifo! La volevo dare a te! Vai, vai! Apri, apri! E tienimi aggiornata! Un altro pozzo, Anna! Un altro pozzo! Aspetta, arrivo! Arrivo, 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 arrivo! Qua ho trovato un secchio di lava! Mamma mia, cose buone! Ok, allora... Ce l'hai la monetina? Allora, ho una pepita d'oro! Esatto, quella è la monetina! Sei pronta a lanciare la monetina? Lancia la monetina! Con cui? Vai! Patate! Patate! Però intanto sotto c'è il ferro! Quindi puoi andare a scavare? Aspetta! Sì! Ecco qua! Vai! Sperate che non esplodere di nuovo! Ah! Sei viva? Sono viva! Mamma mia! Cioè, allora, questo è stato proprio a tradimento infame! Cavalli zombie! Belli! Non ho capito come... Oh! Ma adesso ci posso montare sopra! L'altra volta non si poteva? No! L'altra volta, ti ricordi, avevo trovato la sella? L'altra volta! Sono viva! Ma perché? Non lo so, ma sono viva! E questo è l'importante! Allora, proverò a prendere io questi blocchi! Ma perché li prendo io ed esplodo? Perché? Non lo so, ci riprovo! Aspetta, con calma! Stai attenta! Piano! Oh! Oh! È uscito un blocco d'oro? Ok, allora, probabilmente perché il tuo piccone è così... Si è caduta! No, è caduto il blocco d'oro! Ok! E sono molto triste per questa cosa! Ah! Un altro pozzo, Feri! Sì, di patate! L'hai già aperto? Eh, no, però ha sputato patate! No, è quello vecchio, quello di patate! Aspetta! Metto questo e vediamo un po', allora! Aspetta che non va lontano! No, hai ragione, hai ragione! Patate, patate di nuovo! Che palle! Eh, ci sarà caduto dentro qualcosa! È probabile! Allora, io prendo altro ferro qui! Ti consiglio di andare nell'altra isola, quella vuota! Ok! E di aprirne qualcuno lì! Porca miseria! C'ho una paura, Feri! Oddio, oddio, Feri! No, esplodo, esplodo, esplodo! È sicuro! No, 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 no! Vieni! Ok, sono viva, sono viva! A parte che loro si stanno comprando le armature! Io te lo dico! Ok, ok, allora, aspetta! Faccio un recap di quanto ferro ho! 15 blocchi! Sì, proprio! Ciao! Mamma mia! Aspetta! Eh, no! Aspetta! Questo via! Questo via! Questo via! Vattene via! Ok! Oh, no! Che c'è? È spucato un ghost, ghost qualcosa! Uno ghost qualcosa? Eh? Oh, mamma mia! Un ghost qualcosa? No, ti prego! Sì, è uno scheletro su un cavallo scheletro! Amiche! Amiche! Quello schifo dell'amico mio! Quello schifo di Alex! Che ha fatto? Ha fatto che praticamente ha messo i mercanti al contrario! Quindi non ti vendono più gli smeraldi in cambio dei minerali! No, non mi dì! Ti vendono i minerali! E adesso io ammazzo feri per l'attenzione! No, no, no! Alex, non ammazza feri! Hai aggiustato l'urido plebeo! Sì, vieni, vieni, puoi cambiare la tua valuta! Chiedi scusa a tutti! Chiedo scusa umilmente! Cioè, Alex... Lo sai che il tuo babamburi verrà stappato come una bottiglia di champagne! Sì, lo so! Bop, Bop! Esatto! Ho trovato un'arma potentissima, Anna! Cioè? No! Non glielo diciamo! Andate via! Via! Non possiamo! Aspetta che un attimo che sono impegnato! No, stiamo facendo il cambio! Un attimo! Dobbiamo sentire! Sembrerebbe proprio che noi dobbiamo sentire! No, no, no! Date via! Andiamo via! Va bene! Allora, un saluto! Ciao, ce ne andiamo! Ciao, ciao, ciao! Se ne sono andati? Penso di sì! Sì? Sì! Ok, dimmi, cosa hai trovato? La Dark Sword! Che roba è? È un'arma... Cioè, è una spada pichissima! Mamma mia! No, la... Aspetta, aspetta, allora, io ho un problema grosso! Non riesci a salire! A parte che non riesco a salire, ma ho trovato un botto e mezzo di roba! E vorrei portartela, però sono un po' incastrata qua sotto! Capisci? Ed è difficile quando sei incastrata! Come facciamo? Allora, ho trovato la Lucky Potion! Ne ho trovate un fracasso! Allora, aspetta! Aia! Aia! Ok? Ci dovrebbe essere un diamante lassù, vero? Pesso da qui! Senti, ho trovato il modo! Senti, aspetta! Addio, mondo crudele! È stato bello! Ti sei buttata? È l'unico modo per tornare su! L'hai preso il diamante? Sì! Ok, allora, Feli, ti do... Dunque... Aspetta, queste le uso tutte quante? Che è questa qui? Ecco qua! Pronta? Vai! Ok! Non vedo niente qui! Non vedo niente! Oh, cavalli! Ti prego, fa che posso cavallare! Sì, posso cavallare! Allora, ho anche l'armatura! Il problema è che non ho la sella! Ed è brutto! Perché io vorrei la sella! Feli, voglio una sella! Feli, sei invisibile! Sì! Che è successo? Ma quella spada? Quella spada è questa! Tiene la dark sword potentissima! Non darla sul cavallo! Pegliati quella! Mamma mia! Porca miseria! Ammazza in un colpo, eh! Che bello, che bello, che bello, che bello! Allora, io butto questa! Io gli vendicherei! Allora, questo è poco ma sicuro, però prima dobbiamo andare a comprare, ad acquisteggiare e a shoppingare! Allora, vediamo un po'. Innanzitutto voglio un'armatura bella! Quindi andiamo da Airbrine, eccolo qua, e prendiamo l'armatura! Oh, che bello! No, prima devo andare a cambiare i soldi, aspetta! Chi è che cambia i soldi? Ma come vestito? Questo! Aspetta, allora, questi, questi... Aspetta, eh! Un po' di questo! Sta dando delle armature a Alex! A me? Sì, dei pantaloni ti ha dato! Non voglio questo! Aspetta! Eh! Feri, non ho spazio! Buttiamo questa armatura! Eh, dà l'acqua qualcosa a me! Aspetta, è che ti butto le monete? Aspetta, no! Ce l'ho fatta! Eh, non posso cambiare altro! Posso cambiare questo ferro? Questo qui? Butto queste patate? Ok, ci siamo! Allora, vieni con... Dov'è? Airbrine! Airbrine! Dov'è? Airbrine! Dove? Airbrine! È di qua! È di qua! Ma questa è armatura schifosa, vai via! Eh, avete proprio un'armatura schifosa! Aspetta, Anna! No, no! Quanti smeraldi avete? Non ti preoccupare che Anna sta shoppingando! Eh, la miseria! A me facevate tenerezza, volevo regalarvi un po' dei nostri smeraldi! Però... Oh, no! Che caro! Non ce n'è bisogno! Allora, Feri! Feri! Mamma mia! Allora, adesso aspetta! Ho preso la mia e vedo se posso shoppingare anche per te! Compratevi le armi prima perché stiamo per attaccare! Guarda che non è che aspettiamo molto noi altri! Anzi, guarda! No! Sì, sì! Dai! Compare, ultima cosa! Tieni! Dai! Oh, grazie, Alex! Comunque le pozioni di visibilità, se hai l'armatura addosso, non è che servono a te! Te la sei tirata da sola! Non è possibile! Metà! Vabbè, Anna, non ti preoccupare! Non ti preoccupare! Ma così muoio! No, no! Oh, no! Vabbè, siete ancora in vantaggio, vedi, perché... Perché me la sei tirata da sola? Non lo so, sei un po' sbanunata, lo si sa, lo si sa! Però, in compenso, avete comprato le cose? No, aspetta, devo andare a comprare le armi, ho preso l'armatura! Oh, non abbiamo tempo di aspettare, cioè, è il momento di combattere! Un massimo! Feri, metti davanti a me, corri! Sono qui, ti ho lanciato altra roba! Davanti a me! Lasciamole da sola, va? E prendi questo! Date via! Io prenderò il nuclear death ray, mamma mia! E poi prenderò anche una... La biogun, non la posso prendere! Aspetta, prenderò questo per te, con questo! E prendo questo per me, con questo! E poi ti prendo anche un po' di questo, e un po' di questo! E anche un po' di questo, e un po' di questo a me! Ok, 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 allora adesso ascoltami, ascoltami! Devi stare vicinissima a me! Perché adesso io dovrei splashare un botto di roba addosso! Ok! Vediamo un po', allora, tipo, questa water breathing, ma sì, chi se ne frega! Questa di lentezza non ce ne frega! Allora, sei pronta? Sì! Aspetta! Oddio, che paura! Cos'è? Allora, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua! Allora, una, due, questa... No, ho messo wakeless, sono stupida! Ma perché? Questa, poi questa, e poi questa slowness, questa leaping che ci fa saltare, ecco qua! Poi, questa qui è la hero potion, questa è dealing, questa qui... Ah! Poi bevo la hero potion! Ok! Siamo pronti! Ok! Anche noi! Pronti? Aspetta! Aspetta! Guarda che perdete, stavolta! Non ci penso proprio! Ok! Siamo pronti! Ok! 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 No! Ce ne prendete mai! No! Sì, sì, come no? Alex, il mio raggio della morte fa cacare! No! No, non è vero! Cambiamo arma! Cambiamo arma! Ho spinto Faye! Ho spinto Faye! Non è giusto! No! Non c'è il volume della musica perché l'ultima volta mi ha stuzzato le orecchie! Mamma mia! Aia, che ando? C'è il raggio della morte! Lo vedo! Non fa un cappero! Come mai Alex? Questo è molto che non è possibile! Ma come siete? Io ho le pozioni della sfiga! Pozioni della sfiga! Pozioni della sfiga! Dai, io non vedo comunque! Dai, io non vedo niente! Non vedo niente neanche io! Alex, l'arma tu... Ho ucciso Faye! Ma basta! Non vedo più nulla Alex! Vieni via! Aspetta chi è quello? Non so se sei tu o Anna! Stai beccando me! Non me ne frega! Io uccido lo stesso! Chi è la? Ok! Chi ha vinto? Lori! C'è ancora Anna lì! Aspetta! Mi ha buttato giù Anna! Anna mi ha ucciso pure a me! Davvero? Sì! È stato qua! Alex, sto raggio della morte e fa cacarex! Come facciamo? Ho lasciato! Ce l'ho anch'io! Ferri mi ammazza pure! No! È ferri! Ma è giù! Suca! Suca! Pababam! Pababam! Parababam! Vabbè! Adesso vai! Vabbè! Non è vero! Anna sta dando fastidio là sopra! Hai rotto le palle Anna! Sono morta! Sono morta! Meno male che arriva Ferri che è tutta scemotta! Non è vero! Si buttano così e mi ha ucciso! Come ho fatto ad ucciderti? Pausa! Fermi! Fermi! Conteggio! 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 Allora! Ferri è morto dieci volte! Siamo 15 a 16! Non è vero! Sì! È vero! Davvero! Per chi? Per noi! Per loro! Ok! Allora! Tieni! Però non contando anche le morti di prima eh! Le morti di prima si conta tutto si deve contare! Tutto! Allora sono! Per la squadra di Anna sono 15! Invece per la nostra sono 16! È giusto! Così è giusto! Il conteggio è giusto! Ok! Allora! Ultimo scontro! Chi muore per primo? Perde! Ma Ferri è senza armatura! Anch'io sto mezzo senza armatura! Allora sarà uno scontro solo tra me e Anna! Ok! Sono pronta! Ok! Allora meno tre! Allora meno due! Allora meno uno! E allora via Anna! E allora via! Carica! Dove sei? All'attacco Lion! Vai! Dietro di te! Tutto segreto! È sminorduloso! Mi ha morta! Prendo la banana! Forse probabilmente! Distruggila! Distruggila! Probabilmente prendo la banana! Sai io non può morire! Ma va 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 va! Non è un modo! Aspetta! Sono ancora qui! Sono ancora qui! Anna cucinati e usa la spada! Hai ragione! Dove sei? Te lo ho anche io la spada lo sai? Va va va! Sì! No no no! Adoninto! Vuoi la religità? Beh siamo 16 a 16 adesso! È vero! Io contro Ferri! Io contro Ferri! Ma io ho l'armatura! No perché Ferri è senza armatura! Ferri è vera creatura! Ferri ti sto comprando l'armatura! No! No! Ok! No! Di nuovo io contro di te Anna! Forza cammina! Dai! Sono pronta! Dieci! Dieci! Spareggione letale! Ecco! Dove sei? Sono dietro di te! No! Perché si è prendendo? È stusso! 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 Alex mi stusca lo stesso! No! È forte! È molto forte! È molto forte! Aspetta! Alex! Aiuto la casa! C'è dietro! No! 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 Oh! Oh! Senza l'aiuto! Wow! Ma la tua arma c'è di io! Vai! Io che c'entravo! Niente! Anche questo qua mi sta un sacco sulle palle! Non lo sopporto più! Come è quella spada che la distrugge così tanto? E mo! Questa spada è rubrinica! Era veramente troppo forte! È potentissima! Dai! Vuota! Uffa! Bene! Si fermiamo così! E da Lion è la gang dei blocchi lacchi forti! E questo stupido! Out! Ciao! Ciao! Non c'entravo niente! Non c'entravo niente!